Cinque cartoline, per favore. Dica? Posso vedere le cartoline? Certo, faccia pure. Quanto costano? Queste qui, normali, costano 40 centesimi l'una. Le grandi costano 55 l'una. Allora, prendo cinque di quelle normali e cinque grandi. Sono molto belle, le grandi, ma un po' care. Sì, sono bellissime, ma se deve scrivere a molte persone. Allora, sono 4,75 euro in tutto. Vuole anche i francobolli? Sì, mi dia 10 francobolli per gli Stati Uniti. Via aerea? Sì, grazie. Metto i francobolli qui nella busta con le cartoline. Le do anche 10 etichette via aerea. Desidera altro? No, grazie. Quanto è? Cinque cartoline, per favore. Dica? Posso vedere le cartoline? Certo, faccia pure. Quanto costano? Queste qui, normali, costano 40 centesimi l'una. Le grandi costano 55 l'una. Allora, prendo cinque di quelle normali e cinque grandi. Sono molto belle, le grandi, ma un po' care. Sì, sono bellissime, ma se deve scrivere a molte persone. Allora, sono 4,75 euro in tutto. Vuole anche i francobolli? Sì, mi dia 10 francobolli per gli Stati Uniti. Via aerea? Sì, grazie. Metto i francobolli qui nella busta con le cartoline. Le do anche 10 etichette via aerea. Desidera altro? No, grazie. Quanto è?